Allora, abbiamo, come dire, messo assieme abbastanza pezzi di questo discorso iniziale sulla cinematica per iniziare a interessarci di moti un po' più generali che non si limitano quindi alla storia rettilinea che abbiamo considerato fino adesso. Quindi adesso dobbiamo affrontare la cinematica dei moti a più dimensioni, che poi vedrete si ridurranno sempre in questo corso a moti piani, quindi a due dimensioni, in un foglio, non limitatamente alla loro esistenza su un foglio. I moti che possono interessare più generalmente sono quelli tridimensionali, diciamo nulla di terribile come potrete vedere però vengono affrontati in modo un po' più sofisticato matematicamente in un corso che non è quello di fisica generale 1 ma di meccanica razionale. Allora, scopo dunque di questa sequenza di lezioni è quella di occuparci di questa cinematica in due dimensioni. cosa utilizzeremo? Le definizioni che abbiamo già visto di velocità accelerazione associate alla posizione di un punto che però non sarà limitato ad una retta, quindi avremo bisogno di collocarlo in uno spazio più dimensioni e dunque faremo utilizzo delle regole matematiche, cioè dell'algebra, dei vettori, questi nuovi oggetti che vedremo finalmente, insomma, fin da ora in azione. Allora, qual è l'oggetto dei nostri desideri adesso? è lo studio di qualcosa che avviene in un mondo che può essere cartesianamente inteso come rappresentazione, insomma, in termini di, ora, una collocazione bidimensionale su due assi. il punto vive la sua vita cinematica da qualche parte su questo foglio e vive una vita cinematica che magari è interessante, questo è un altro dettaglio ma comunque è quella che chiamiamo una strada che percorre una traiettoria quindi il punto può essere animato da qualche agente che in questo momento non ci interessa ma come conseguenza di questa gente il punto si troverà a percorrere quella che si chiama una traiettoria io su questo non insisterò mai abbastanza, questa curva casuale che ho disegnato a casaccio blu è una traiettoria e non ha, strettamente parlando, nulla a che fare con i grafici che abbiamo visto fino all'ultima lezione che erano leggi orarie cioè in cui sull'asse delle ascisse, quelle orizzontali, c'era il tempo notate bene che adesso su tutti e due gli assi ci sono delle coordinate posizionali cioè la proiezione X e la proiezione Y che danno la posizione bidimensionale nel foglio del punto materiale P che stiamo considerando quindi attenzione bene, questa cosa che ho disegnato non è una leggeraria adesso ma è quello che vedo prima o poi fare come cammino da parte del nostro punto potrebbe andare da questa parte, diciamo così, cioè avere un certo verso di percorrenza cioè io vado e inseguo il punto che cammina partendo da qui e poi va da questa e poi va da questa, va da questa ma potrebbe anche essere che è arrivato qui, il punto torna indietro e poi è arrivato qui e ricomincia in avanti e quindi diciamo questa serpentina che ho disegnato non mi sta dicendo così come l'ho disegnata da che parte sta andando il punto questa è un'informazione che devo aggiungere poi questo come dicono anche i matematici fanno bene in questo caso almeno è un luogo di punti che caratterizzano prima o poi dove è passato o dove passerà o dove sta passando il punto nel suo movimento allora per assegnare il posizionamento del punto è chiaro che adesso noi abbiamo bisogno di una informazione di tipo vettoriale cioè diciamo che il punto viene collocato assegnando in un qualunque istante del tempo la sua coordinata vettoriale il suo vettore di posizionamento r vettore funzione del tempo attenzione questa è una funzione che in un certo senso non disegno in maniera che avete imparato a fare per le funzioni a un valore di una variabile indipendente la solita y uguale a f di x la r vettore di t è comunque una funzione vettoriale del tempo voi dovete pensare alla lancetta che scorre di un orologio che scorre indica vari istanti di tempo successivi e corrispondentemente la posizione del punto materiale cammina, evolve, si modifica e con essa anche dunque la sua collocazione data in termini del vettore r in quell'istante di tempo ovvero supponete che in un istante di tempo successivo passato un certo intervallo di tempo il punto si trovi in un'altra posizione per esempio quella che ho indicato che sto indicando qui supponete che il tempo venga monitorato in un certo istante t e poi aspetto un certo intervallo di tempo delta t e mi chiedo dov'è il punto all'istante t più delta t a un secondo più tre secondi a zero secondi meno cinque secondi insomma in un altro istante di tempo e la risposta dipenderà dalla traiettoria dalla strada, dalla storia che caratterizza cinematicamente parlando la vita di questo nostro oggetto Allora, nell'istante di tempo t più delta t mi ripropongo di scrivere una posizione vettoriale che è un vettore nell'istante r di t più delta t Allora, anzitutto assegnare in due dimensioni la posizione r vettore di t è equivalente ad assegnare due componenti, quelle cartesiane che sono corrispondenti all'istante t scelto alle componenti x di t virgola y di t cioè, se non fosse chiaro stiamo studiando con questa notazione due leggi orarie simultaneamente parlando di r di t la legge oraria lungo l'asse x e la legge oraria lungo l'asse y quindi, se guardiamo ancora il nostro disegno la r di t proiettata orizzontalmente da luogo a una legge oraria lungo l'asse x x di t e, man mano che si muove vedremo anche l'ombra diciamo così la proiezione lungo l'asse y dello stesso vettore r di t quindi, se noi abbiamo modo di raccontare le leggi orarie relative alle proiezioni x e y le mettiamo assieme e abbiamo un racconto vettoriale della storia cinematica nel piano adesso del punto uno potrebbe anche scrivere con la notazione per molti di voi, immagino, nuova che abbiamo introdotto l'altro giorno l'ultima volta, insomma che la posizione vettoriale r di t la posso raccontare anche in termini di due versori che danno l'orientazione degli assi cartesiani x y che avevamo chiamato i e j e quindi scrivere che il vettore i istante il vettore r istante per istante lungo la direzione i è data da la proiezione oraria x funziona del tempo e lungo la direzione j quindi l'asse y è data dalla corrispondente legge oraria y di t sono tutte notazioni equivalenti queste e tutte quindi assolutamente valide ho una tendenza a privilegiare quest'ultima perché è molto diretta nel raccontare che il vettore r nel piano ma anche in tre dimensioni è la somma di tre storie cinematiche lungo x, lungo y e lungo z se ci fossero in questo caso due storie cinematiche quindi è chiaro che facendo così impostiamo un modo che ci proietta verso la descrizione bidimensionale del moto avendo chiaro cosa succede in una dimensione cioè lungo x e lungo y perché adesso sappiamo come mettere assieme le due storie cinematiche per ottenerne una sola vettoriale allora se il tempo lo lasciamo scorrere come stavo iniziando a dire si può attendere anche uno spostamento del punto lungo la traiettoria quindi del raggio vettore r che lo racconta quindi anche r cambia e quindi anche le proiezioni orarie lungo i due assi saranno corrispondentemente mutate cioè nell'istante r nell'istante t più delta t in un istante diverso di tempo il vettore r avrà proiezioni corrispondentemente date lungo i da x proiezione cartesiana lungo l'asse x nell'istante t più delta t e lungo l'asse y cioè il versore j è y calcolato in t più delta t lo so che molti di voi si stanno già annoiando ho detto già molte volte continuo a dire abbiano pazienza e guardate che qui questa somma che abbiamo scritto fra i per x più j per y è una cosa geometrica non è una somma di numeri i due addendi i per x e j per y questi due addendi i per x e j per y sono due frecce sono le frecce rispettivamente lungo l'asse x lungo l'asse y che proiettano il vettore r di t oppure r di t più delta t a costo di risultare eccessivo nel mio chiarimento sperando di essere solo utile voglio ribadire che qui stiamo guardando x di t più delta t misurando la proiezione lungo l'asse x il vettore r in t più delta t e questa è la y di t più delta t quando le sommo sto ricostruendo la freccia rossa questa proiezione qui più questa proiezione qui sono i due catetti di questo triangolo rettangolo che ha come ipotenusa proprio il raggio vettore la posizione vettoriale r di t più delta t oppure r di t a seconda di istante di tempo vedete che stiamo mescolando le idee cinematiche unidimensionali lungo la retta x per esempio oppure y con le idee vettoriali sulle quali abbiamo iniziato a ragionare possiamo anche scrivere questa cosa molto molto importante adesso quale? beh vedete il punto p si muove da qui a qui in corrispondenza degli istanti che ho considerato possiamo dire questo non è solo come dire suggestivo è fondamentale che il punto p si sposta da qui a qui secondo questa freccia bianca questa freccia bianca che cos'è? è proprio la strada vettorialmente intesa quindi il salto che fa il punto quando il tempo scatta dall'istante t all'istante t più delta t attenzione non è la strada curva che ha percorso la strada curva che ha percorso è questo archetto blu no? che collega istante per istante i due punti di partenza ed arrivo la freccetta bianca che ho indicato qui è il salto dall'istante t all'istante t più delta t che fa il punto non curandosi della strada e cosa che invece succede allora perché uno fa questa cosa? perché questa freccetta bianca la si può intendere la si deve intendere come un vettore che è la differenza fra il vettore nel punto d'arrivo e il vettore nel punto di partenza cioè questa freccia bianca qui la indico con delta r e il delta r e il delta r la lavagna è quasi perfetta ma ogni tanto va dove vuole quindi ma io le insegnerò chi comanda qui il delta r è definito proprio vettorialmente come la differenza fra le due frecce r nell'istante t più delta t e r nell'istante t questo va chiamato perché rappresenta proprio questa questa situazione vettore spostamento e vedete che soddisfa la definizione vettoriale che abbiamo dato di differenza fra due vettori perché lo si vede che realizza l'idea di diagonale centrale del parallelogramma che ha come lati r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r dichiarando che per ottenere r nell'istante chiamiamolo successivo t più delta t basta partire da r nell'istante di partenza chiamiamolo così r di t al quale aggiungere il salto che ha fatto il punto eh fra l'istante iniziale e l'istante finale quindi eh in questo disegno aggiungo a questo questo aggiungo a r questa freccia rossa questa freccia bianca e ottengo esattamente eh la la freccia eh rossa r di t più delta t cioè dove eh va a finire il punto a partire dall'origine ovviamente e spero che sia chiaro eh il fatto che di nuovo qui è banale grazie all'algebra e ai vettori che abbiamo iniziato a utilizzare che il vettore eh delta r è lo spostamento a come componenti cartesiane gli spostamenti eh cartesiani eh cioè le proiezioni sugli assi x e y dei corrispondenti spostamenti proiettati cioè insomma è più facile eh osservarlo capirlo che non dirlo a come componente x lo spostamento la x di t più delta t meno x di t e quindi eh prima componente è questa e come componente y la y di t più delta t meno y di t o se volete ancora una volta potete scriverlo eh utilizzando la espansione geometrica sui versori i e j ecco insomma che abbiamo eh introdotto un'idea di racconto dello spostamento di un punto a partire da eh le posizioni vettoriali occupate dallo stesso in due istanti eh successivi eh ovviamente se lo spostamento è stato fatto se il punto si è spostato complessivamente eh allora perché ho fatto questo discorso mi serve molto perché eh a partire da esso posso introdurre un'idea adesso vettoriale e nel senso estesa al foglio di velocità allora la velocità come l'abbiamo introdotto in una dimensione semplicemente considerando nel senso medio del termine eh il rapporto fra lo spostamento cartesiano che abbiamo adottato e l'intervallo di tempo corrisponente cioè il delta x su delta t la cosa la rifacciamo esattamente allo stesso modo se siamo in più dimensioni in due dimensioni e e la facciamo ehm come dire replicando la definizione unidimensionale cioè adesso abbiamo eh il disegno lo rifaccio per questioni di chiarezza due posizioni ehm ovviamente non coincidenti del ehm ehm occupate dal punto nella sua vita cinematica e abbiamo anche corrispondentemente lo spostamento come vi dicevo poco fa quindi questo è il delta r definiamo quindi diamo proprio io odio questo termine ma insomma in certi casi ehm è inevitabile una definizione formale di velocità media e aggiungerei per adesso un aggettivo vettoriale ma poi sarà eh come dire inevitabile quindi non userò più questo questo termine perché ehm sarà evidente dal contesto se sto parlando di freccio oppure no e questa definizione di velocità media vettoriale è la seguente è una freccia che indico con vm è data dal rapporto del vettore spostamento delta r con l'intervallo di tempo che definisce lo spostamento cioè che lo ehm genera in un certo senso perché se passa il tempo ho eventualmente uno spostamento cioè vedete che non è altro per come ho introdotto il vettore spostamento che il vettore differenza fra la posizione vettoriale del punto nell'istante t più delta t e quella nell'istante t riferita al delta t che se è un vettore è fuori discussione perché è un è una distorsione di un vettore per un numero in che senso distorsione l'avevamo chiamata omotetia ma era per fare le parolone una cosa molto semplice questo è un vettore che divido per il numero delta t quindi ha perfettamente senso da un punto di vista del calcolo da fare cioè questo vettore si può anche subito dire che contenuto ha quali sono le sue componenti cartesiane beh sono semplicemente le componenti delta x diviso delta t lungo l'asse x e delta y diviso delta t e o se preferite potete anche scriverlo come i versora per delta x su delta t più j versore per delta y su delta t poi quando queste notazioni queste scritture vi saranno come dire familiari non insisterò più di intanto però posso immaginare che adesso almeno queste prime volte abbia un'utilità in essere un pochino pedante nello scrivere in vari modi in vari modi questa 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 cosa e ancora una volta vorrei che vi fosse ben chiaro che non sto facendo nient'altro che prendere la freccia delta r la faccio scendere sugli asse x proiettandola faccio questa operazione vado a vedere quant'è la sua proiezione sull'asse x è un delta x per esempio da questa parte verso destra guardo quant'è la sua proiezione sull'asse y è un delta y e questi due numeri consegno perché sono le componenti del vettore delta r le divido per delta t e chiaramente io vorrei che fosse chiaro se no chiaro che bisognerà insistere su questa cosa vuol dire che non ho fatto altro che prendere un vettore che ha come componente x cioè lungo i la velocità media del punto associata al moto proiettato sull'asse x perché il delta x su delta t non è altro che la velocità media del punto considerata lungo l'asse x e lungo l'asse j quindi l'asse y la velocità media corrispondentemente proiettata cioè se voi avete un punto che va a spasso su foglio fa strani serpentine strani moti ma potrebbe anche fare un moto rettilineo potrebbe anche stare fermo non mi interessa di fatto io adesso sto studiando le due velocità quella proiettata lungo l'asse x cioè guardo che ombra getta lungo l'asse x che proiezione ha che componente ha lungo l'asse x lo spostamento la rapporto al tempo che passa e questo lo chiamo velocità lungo l'asse x media e lungo l'asse y altrettanto velocità media lungo l'asse y insomma è chiaro che questa è un'informazione nuova rispetto a quanto abbiamo visto che vettore che razza di vettore è è vm ma vedete per come l'ho costruito la prima cosa che posso dichiarare con molta tranquillità è che vm è un vettore parallelo allo spostamento a delta r perché la parte vettoriale del vettore vm è tutto in delta r se lo divido per delta t certo ne cambierò il modulo ne cambio le dimensioni ma non mi cambia certo la direzione cioè l'orientazione di questa freccia cioè vm è una freccia che qui adesso indico in colore giallo in questo disegno che ha la stessa direzione di delta r non ho a priori un criterio per dire quanto si allunga questa freccia perché ovviamente dipende dal valore concreto reale sia di delta r che di delta t e dipende dall'unità di misura dipende dal dimensionamento del grafico però vm è una freccia che ha la stessa direzione orientata di delta r insomma si può anche dire che la velocità in media è una misura della rapidità con la quale il punto si porta dalla posizione iniziale alla posizione finale non c'è assolutamente nulla di diverso da quanto abbiamo visto separatamente lungo gli assi x e lungo gli assi y la velocità in media si misurerà vettoriale o non vettoriale che sia in metri a seconda di un sistema internazionale mi dà una misura della rapidità di movimentazione del punto nello spazio solo che adesso siccome io oltre a misurare con una velocità quanto tempo ci metto a fare una certa strada devo anche confrontarmi con l'idea di da che parte mi sto muovendo con quale velocità mi sto muovendo in una data direzione è chiaro che adesso mi nascono due informazioni simultanee perché siamo in due dimensioni e queste due informazioni sono le due velocità medie le due velocità medie le sommo con criterio vettoriale per ottenere una velocità media vettoriale attentissimi alla notazione questa è una freccia è un vettore e vedete che è data dalla somma di due vettori ancora una volta questa è una somma nel senso del parallelogramma del rettangolo che ha come base lungo x la velocità media lungo x che non è non è un vettore la velocità media lungo x è la componente con segno quindi di scala di un vettore e lungo il vettore unitario verso re j la parte vm lungo y e vorrei immaginare che cominciate a intuire dove vi voglio trascinare con questa costruzione che ho iniziato insomma sto mettendo assieme un vettore che è la freccia di velocità media che è una somma vettoriale di due velocità medie il punto si muove da qui a qui e quindi in media ha fatto un salto da qui a qui ma non si è mosso certo in questa direzione è andato seguendo la curva e come faccio io a capire in che direzione sta andando e con che velocità si sta andando beh non mi posso certo limitare a fare un delta t di un'ora perché io potrei benissimo andare da trento a volzano e poi tornare da volzano a trento il mio spostamento quanto è è zero perché il punto d'arrivo è uguale al punto di partenza vuol dire questo che io sono stato sempre fermo no istante per istante no se davvero sono stato a volzano vuol dire che la mia velocità è zero beh in media sì ma la freccia della mia velocità mentre andavo a volzano stavo puntando verso nord e poi mentre tornavo da trento verso trento da volzano stavo puntando verso sud e quindi è chiaro che stiamo perdendo delle informazioni perché perché siamo stati troppo laschi nell'intervallo di tempo considerato cioè cosa dobbiamo fare e beh come abbiamo fatto nel caso unidimensionale dobbiamo infittire l'intervallo di tempo e arrivare a un'idea è una pratica di velocità ora freccia vettore istantanea e non più nel senso medio del termine e come si fa beh io odio dire è semplice però mi piacerebbe che in questo caso lo fosse anche risultasse anche per voi semplice prendiamo quindi una velocità e adesso non metto più media quindi mi ricordo quello che ho fatto nella una dimensione con scritto v e basta però adesso ci metto la freccia sopra e lo tengo aumentando la come dire risoluzione temporale della mia procedura concituale anche concreta con un cronometro che affetta il tempo sempre più frequentemente cioè il delta t diventa sempre più piccolo e allora lo faccio anche nel senso molto astratto del termine e lo scrivo come mi piace ai matematici devo fare il limite quando delta t tende a zero della velocità media cioè della freccia che ho appena discusso ovvero devo fare il limite quando delta t sto riscrivendo è quello che ho scritto sopra quando delta t tende a zero del rapporto uso sto parolone incrementale vettoriale cioè dello spostamento delta r riferito all'intervallo di tempo delta t quando questo tende a zero cioè insomma devo mandare l'intervallo di tempo a zero del rapporto incrementale r posizione vettoriale in t più delta t meno r di t diviso delta t insomma ho scritto in tre modi diversi quello che ho scritto anche prima solo aggiungendo questo importantissimo limite quando delta t tende a zero insomma se io uso e voglio fare questa adozione di notazione quella che avevo fatto nel caso in una dimensione vi ricordate avevo scritto che v era uguale a dx su dt cioè x punto guardate non c'è nessuna freccia qui perché gli stavo misurando solo la posizione lungo l'unico asse x che avevo chiamato bene adesso io faccio una cosa molto più interessante definisco la freccia v con la procedura sopra scritta e uso questa notazione dr su dt cioè è una derivata nel senso un po' nuovo ma anche non del tutto nuovo matematico del termine del vettore posizione in funzione del tempo r è una funzione del tempo adesso voglio dare un senso alla derivata in funzione del tempo del vettore r che immagino accetterete fin d'ora potrò anche indicare con vettore r col puntino sopra perché questa è l'idea universale simbolo di derivazione temporale di qualcosa compreso un vettore questa è una novità abbastanza grossa per la maggior parte di voi direi no perché fare una derivata beh molti di voi l'hanno già vista però adesso fare la derivata di un vettore è un'idea un po' forte da introdurre da chiarire e poi da accettare e anche da utilizzare che razza di idea è quella di un vettore ma nel nostro caso di una derivata vettoriale nel nostro caso non è così complicata allora il vettore v cioè il dr su dt dove vi ricordo attenti bene dr su dt non è una frazione non è qualcosa diviso qualcosa altro vuol dire prendi il vettore r e fanno la derivata rispetto al tempo e quindi questo vuol dire modifica in qualche modo il vettore r lo modificherai dimensionalmente perché questa è una lunghezza rapportata ad un tempo lo modificheremo anche come modulo come valore perché ovviamente sto rapportando al limite due grandezze cioè il dr e il dt e ne modificherò anche la direzione in qualche modo che adesso va chiarita però la prima cosa che possiamo dire senza farci troppi problemi è che questo vettore ha come componenti e le indico le velocità istantanee vx e vy cioè cosa sono vx e vy sono le due derivate rispetto al tempo delle posizioni proiettate lungo gli assi x e y del nostro punto che si sta muovendo cioè sto estendendo nel senso del limite esatto di cui ci stiamo interessando cioè istantaneo l'idea che abbiamo già sfruttato prima cioè non ho fatto altro che fare il limite delle due velocità medie lungo x e lungo y e dico che istantaneamente lungo x e lungo y il punto a velocità vx e vy date da dx su dt e dy su dt altra notazione assolutamente sono tutte equivalenti questi sono notazioni equivalenti potrebbe essere prendo il versore i e la sua componente per dare la velocità è x punto cioè il dx su dt e il versore j cioè mi interessa l'asse y e lì come velocità come componente prendo la velocità istantanea lungo l'asse y allora questo queste sono notazioni di nuovo non c'è nulla di casuale buttato lì a caso nel scrivere vettori dove vanno scritti o numeri dove vanno scritti il punto le derivate le virgole hanno tutto un ruolo guardatele attentamente e non prendetele sotto gamba sono notazioni che se usate correttamente permettono di poi procedere con il formalismo e le applicazioni in modo coerente e ovviamente corretto altrimenti succedono disastri quindi non dimenticate mai i segni di vettore dove questi sono richiesti ma allo stesso modo non metteteli dove non sono richiesti imparerete vedrete molto presto magari anche un po' a vostre spese cioè sbagliando ma poi la soluzione ai vostri problemi sarà relativamente facile basta stare molto attenti questa è una freccia tra quale vogliamo capire meglio la sua natura quanto quanto è questa freccia di velocità che che modulo ha quant'è il valore di v quindi che misura diamo a v intensità v modulo v lunghezza beh siccome l'abbiamo scomposto nel senso cartesiano con le due velocità istantanei lungo l'asse x e lungo l'asse y applico il teorema di Pitagora e lo scrivo così oppure lo posso anche scrivere x punto al quadrato più y punto al quadrato sotto radice oppure alla un mezzo insomma smizzarrito le notazioni pur che siano corrette e quindi siccome abbiamo scomposto lungo x e lungo y quindi lungo i e lungo j e qui sto ripetendo ancora una volta questo discorso che poi doveva diventare una sorta di automatismo questa freccia v che ha proiezione vx cioè x punto lungo l'asse x versore i e y punto lungo l'asse y cioè versore i j e quindi è chiaro che questa ipotenusa di questo triangolo rettangolo ha come lunghezza quello che ho appena scritto qua teorema di di pitacora e è un vettore questo ne abbiamo specificato la lunghezza vorremmo chiarire la sua caratteristica genuinamente vettoriale cioè la sua orientazione non è difficile vi voglio convincere quali sia la risposta alla domanda come è orientato il vettore prima da un punto di vista intuitivo e poi un pochino anche più formale anche se non troppo per questa volta almeno vi risparmio le dimostrazioni se io prendo la velocità media da un punto di partenza a un punto d'arrivo disegno una freccia che collega questi due punti quindi questa è la velocità media per un delta t assegnato ma se io prendo un delta t più piccolo vedete che il punto non può che aver fatto meno strade nel delta t più piccolo quindi la velocità media si sposta non sto dimostrando nulla ve lo sto raccontando secondo questa freccia e se io prendo un delta t ancora più piccolo la velocità media si sposta assecondando questa freccia allora di nuovo non sto dimostrandolo ma spero che vi torni da questo modo di ragionare che se io insisto in maniera senza limite anzi al limite di intervallo di tempo che tende a zero questa freccia non può che adagiarsi secondo la direzione tangente alla traiettoria allora questo è un risultato non importante è più che importante è straimportante qui credo di aver capito che dovrebbe risultare che v è un vettore tangente cioè che tocca in un punto solo alla traiettoria cinematica ovviamente del punto di cui ci stiamo interessando e è possibile adesso lo vediamo stabilire in maniera un po' più come dire rigorosa questo risultato però prima di farlo prima di confondervi oppure di chiarirvi spero buona la seconda le idee con la dimostrazione vorrei che vi fosse che fosse chiara intuitivamente questa situazione sulla traiettoria se è una traiettoria rettilinea non ho molto da discutere perché io vado solo nella direzione della strada e quindi è chiaro che è tangente se la traiettoria è rettilinea torniamo a fare i nostri discorsi unidimensionali ma se la traiettoria è curva come in questo disegno quello che succede è diverso e è quello che vi ho raccontato la freccia tende a allinearsi secondo la direzione tangente e quindi adesso dovremmo riuscire a mettere assieme questi due pezzi della storia uno è quanto vado veloce sulla mia bella strada a curve e questo sarà il misurato dal modulo devo sapere quanto vado veloce se volete dire lungo l'asse x lungo l'asse y sommo queste due velocità nel senso del componenti cartesiane e ottengo la velocità quella che io chiamo tachimetrica del tachimetro cioè i chilometri all'ora e i metri al secondo quello che indica la lancetta del misuratore di velocità sul sul mezzo sul punto che si sta muovendo però adesso io voglio anche sapere quale è la direzione e qui vi ho raccontato che la velocità dovrebbe essere in direzione tangente a traiettoria quindi dovrei riuscire a scrivere una notazione molto elegante in cui il modulo della velocità sono i chilometri all'ora e metri al secondo il tachimetro e poi ho anche il versore della velocità che sarà quello tangente alla traiettoria quindi è una direzione che ha a che fare con la forma della strada che sta percorrendo per fare questo lavoro ce la caviamo in modo relativamente semplice come si fa prendete un pezzo di strada percorsa prendete il raggio vettore che misura lo spostamento quindi un certo delta r a me questo interesserà certo però per arrivare alla definizione istantanea della grandezza in gioco mi interessa anche misurare la strada che percorro e questa la percorro facendo la curva seguendo la curva e chiamo questa strada curvilinea delta s notate che il delta r è un vettore quindi è una freccetta che attacca punto di patenza punto d'arrivo mentre delta s è un arco può essere anche una forma molto complicata è chiaro che qui stiamo partendo dall'istante t e arrivando all'istante t più delta t o da un istante t1 all'istante t2 quindi delta s è la strada percorsa s la coordinata curvilinea cioè i metri che percorro davvero delta r si misura ancora in metri ma non è la strada percorsa è il salto di strada cioè lo spostamento allora con questa idea vedete cosa posso scrivere che il vettore v è dato dal limite questo l'avevamo già scritto questa è la nostra definizione del delta r sul delta t e adesso faccio un passaggio da piccolo matematico nel senso che mi invento una cosa che si rivelerà molto furba e scrivo invece che delta r sul delta t divido e moltiplico per delta s cioè metto delta s qua sotto ma poi lo metto anche qua sopra e poi metto il delta t questa è un'operazione che si può fare no a diviso b lo posso scrivere come a diviso c per c diviso b allora questa cosa che sembra abbastanza ridicola perché poi se io semplifico torno a scrivere quello che ho scritto prima in realtà qui ha un'utilità tattica ben precisa perché adesso guardo queste due frazioni questi due rapporti e siccome dovremmo andare delta t a zero per arrivare a velocità limite istantanea mi danno informazioni molto importanti separatamente uno dall'altro cioè vedete che il primo rapporto delta r su delta s man mano che il delta t tende a zero quindi man mano che mi sposto con questa freccia come facevo prima no il disegno di prima a far coincidere t più delta t con t fa sì che il numeratore e il denominatore tendano a avere la stessa lunghezza perché delta s si confonde con delta r cioè se io faccio passare pochissimo tempo per quanto io abbia fatto un tratto blu curvo il segmentino verde delta r tende a avere la lunghezza uguale a quella di delta s quindi delta r su delta s è un vettore che però tende a avere lunghezza unitaria perché è dato il rapporto fra un vettore delta r e un numero delta s che tendono ad avere la stessa lunghezza quindi delta r su delta s tende questa cosa quando delta t tende a zero a essere un versore che caratteristica ha un versore beh innanzitutto lo scriviamo con un simbolo tipico lo chiamiamo u il versore l'avevo accennato questo potresti diventare qualche altro simbolo non è importante gli mettiamo sopra un cappellino perché anche questo è un classico per ricordarci che è un vettore sì ma lungo 1 e però cos'ha di formidabile questo versorino che risulta tangente alla traiettoria perché non ve lo sto dimostrando ve li sto convincendo è esattamente la stessa non dimostrazione che ho fatto prima perché vedete che mano mano che delta t tende a zero questo punto spostandosi verso il punto di partenza fa sì che il delta r non abbia nessun altro modo che se non quello di orientarsi tangenzialmente alla traiettoria quindi il versore u lo indicherò con u e ci metto una t vicina e questo è il versore tangente alla curva di cammino del punto cioè alla traiettoria primo pezzo del discorso poi c'è questo oggetto che è il delta s su delta t che cosa è delta s su delta t cosa sta misurando ma questo misura semplicemente quanti chilometri sto facendo di coordinata curvilinea cioè la strada percorsa del delta s rapportata al tempo quindi la velocità ma se il delta t tende a zero questa diventa una velocità istantanea cioè quando delta t tende a zero per delta t che tende a zero questa cosa tende è un ds su dt e la indico anche con s punto perché è la derivata temporale della coordinata curvilinea la posso anche chiamare v con s se volete con ciò a voler indicare la velocità scalare si dice anche intrinseca cioè la velocità propria del punto non riferita alle componenti cartesiani x y e agli assi ma semplicemente ai chilometri allora che ha a lungo quella strada perché la sta percorrendo il punto insomma che cosa stiamo scrivendo e ottenendo abbiamo questa velocità stradale tachimetrica intrinseca io preferisco chiamarla intrinseca perché questo sarà il termine che va per la maggiore sui testi tecnici è una velocità in metri al secondo come tutte le velocità che si rispettano ma vedete non è un vettore attenzione non è un vettore dove è finito il vettore della velocità nel versore tangente insomma arriviamo a questo risultato per me ma anche per voi due anni avanti centralissimo che è il primo punto diciamo d'arrivo di questo discorso di oggi che la velocità di un punto per adesso diciamo nel piano ma questo è una cosa che si estenderà come vi anticipavo poco fa in generale in uno spazio a più dimensioni ma per adesso restiamo nel piano la velocità istantanea quindi la velocità è un vettore che è data da è rappresentata da una velocità stradale una s punto quindi una velocità intrinseca il tachimetro orientata secondo la direzione tangente alla traiettoria questa è una rappresentazione molto suggestiva e molto importante della velocità vettoriale di un punto quindi velocità sottinteso adesso istantanea vettoriale di un punto che separa fattorizza la misura chilometrica tachimetrica della velocità con la sua orientazione il punto importante che voglio aggiungere è che s punto questa velocità che ho anche indicato con v con s ha un segno cioè a seconda del verso di percorrenza può essere positivo o negativo non confondete questa cosa con il modulo v della velocità che è quindi il modulo di ds su dt che non ha segno cioè è positivo il suo segno è positivo e che è l'x punto al quadrato più l'y punto al quadrato che abbiamo visto così anche rappresentato in coordinate cartesiane della velocità nota come dire culturale è chiaro che qui ci sono due velocità quindi la velocità stradale intrinseca e la velocità vettoriale istantanea gli inglesi usano due termini diversi per questa velocità chiamano questa velocità la chiamano velocity lo sto dicendo perché poi se uno studia sui libri come spesso capita legge pubblicazione in lingua inglese trova questa distinzione velocity mentre la v o la vs comunque diciamo quella che non si interessa della direzione è la speed si parla di speed limit nei paesi anglosassoni con ciò riferendosi al tachimetro infatti ecco quindi il punto diciamo al quale volevo arrivare ci sono arrivato è che se voi avete questa traiettoria in qualunque istante vi fermiate a ragionare lì per specificare la velocità dovete tracciare un vettore tangente che potrebbe essere di lunghezza quella che deve essere perché dipende da quanto veloce va l'automobile il punto può essere orientata da una parte o dall'altra secondo se l'automobile sta andando da una parte o dall'altra ma è sempre tangente alla traiettoria questo è un risultato molto importante allora per lasciarvi con una pausa produttiva provate a considerare una traiettoria che è data a partire da due leggi orarie che sono le seguenti è un piccolo esercizio la x in funzione del tempo è 2 per t e la y in funzione del tempo è t al quadrato questo modo si dice parametrico per rappresentare una traiettoria questa si chiama traiettoria in rappresentazione parametrica cos'è il parametro in questo caso il t è il tempo è il parametro e mano mano che t varia o varie x o varie y le metto assieme e posso disegnare la traiettoria a partire da queste due leggi orarie perché qui lo vedete poi lo riprendiamo magari negli incontri di approfondimento ma da questo si capisce per esempio che t è uguale a x diviso 2 e quindi y è uguale t al quadrato cioè x al quadrato quarti molto bene questo vuol dire che so disegnare la traiettoria di questo di questo punto non è altro che un ramo di parabola con coefficiente di di concavità che è pari ad un quarto è fatto così se questo è l'esercizio io rapidamente qua ve lo accenno poi divertitevi a farlo la velocità lungo x di questo punto di x punto lo ottengo derivando rispetto al tempo la x e quindi viene 2 la velocità lungo y lo ottengo derivando rispetto al tempo la y che viene dunque 2t e allora per esempio posso calcolare il modulo della velocità v come la radice quadrata di x punto al quadrato più y punto al quadrato e quindi viene la radice di 4 più 4t quadro quindi viene 2 raccogliendo 4 fuori dalla radice 1 più t al quadrato datemi il t vi calcolo subito il valore della velocità attenzione che questi numeri avranno delle unità di misura 1 non si misura non è un 1 puro perché sarà un secondi al quadrato 2 si misurerà in metri e quindi attenzione alle unità di misura questo ve l'avevo già anticipato e la velocità come è fatta beh in qualunque punto voi vi mettiate in questo disegno come vi ho già avvisati avrete una velocità che ha una componente x e una componente y quindi vedete che la componente x in questo esempio è sempre uguale a 2 perché ho appena visto che vx è sempre uguale a 2 mentre lungo y la y aumenta con l'aumentata del tempo quindi per esempio avrei la v y che cambia in questo modo questa è la v x v x v x v x e qui ho la v y v y e via dicendo mettete assieme queste frecce nel senso cartesiano del termine e ottenete le frecce della velocità vettoriale che deve risultare costantemente tangente anche se mi disegno un po' maldestro alla traiettoria spero che sia convincente che la traiettoria appunto dà luogo a questa condizione di tangenza della velocità nel caso nella fattispecie è facile vedere perché la pendenza della nostra curva la pendenza è la derivata rispetto a x della y essendo la nostra curva x al quadrato quarti è proprio uguale a x mezzi quindi la pendenza risulta anche uguale a x mezzi cioè a t mano a mano che il tempo scorre la pendenza aumenta lo sapevamo che la pendenza della parabola aumenta qui linearmente nel parametro che abbiamo scelto per rappresentarla che è il tempo ora però vedete che vale anche che il rapporto fra vy e vx è date queste date queste due relazioni torna esattamente uguale a 2 t diviso 2 cioè a t cioè vuol dire che effettivamente la pendenza della velocità è la stessa della curva quindi la velocità è tangente alla traiettoria punto per punto istante per istante diciamo questo è un accenno all'esercizio che poi potrete riprendere utilizzando anche altro materiale che vi indicherò adesso però facciamo una pausa che